Marco Rosafio, il fantasista della Cavese, ha segnato al Matera quello che è il suo primo gol in campionato, effettuando un gesto tecnico che non sempre gli ha permesso di fare gol in carriera, vale a dire il colpo di testa. Bella maniera di reagire dopo l'errore di Vivo Valencia dal dischetto. Nel precampionato i tifosi aquilotti apprezzavano soprattutto il dribbling e la capacità di tiro, ma nella gara di martedì Rosafio è andato praticamente in cielo quando Bettini gli ha messo il pallone sul secondo palo, tant'è che qualcuno ha provato a dargli un soprannome, MR7, dalle iniziali del suo nome e cognome e dal numero di maglia. Comunque Rosafio resta coi piedi per terra. La Cavese oggi sta facendo il suo campionato per raggiungere il primo obiettivo. I bianco-blu i loro otto punti se li sono meritati nel campionato di Serie C e li hanno ottenuti a spese di compagini con cui potrebbero contendersi la permanenza in categoria, tolto il Leonzio che è partito per disputare un campionato importante. Ascoltiamo quanto ha detto Rosafio in conferenza stampa. «Diciamo che sono stato un po' fortunato perché stavo andando verso, oltre comunque la palla magnifica mi ha messo Bettini, stavo tagliando verso dentro quindi me lo sono trovato un po' dietro. Sono stato fortunato, comunque sono riuscito ad agganciare l'alta e sono contento dai perché comunque lo cercavo da un bel po' questo gol. Forse era diventato pure un'ossessione e diciamo che anche dopo il rigore ho accusato un po' il colpo perché forse quando hai voglia di dimostrare il vero valore ma non arrivano i gol, magari qualche giocata la sbaglia e un po' perdi in fiducia. Fortunatamente oggi la palla è entrata e sono contento così dai». Ieri pomeriggio allenamento di scarico per la Cavese, soprattutto per chi aveva giocato martedì, mentre oggi c'era doppia seduta. Sabato la partita che doveva essere giocata a Viterbo tra i Metelliani e la Viterbese Castrense non ci sarà. I laziali potranno iniziare a giocare dal 28 ottobre prossimo ma non si sa se giocheranno nel girone C o nel girone A. Non c'è possibilità di accedere al raggruppamento B come avevano richiesto. Quindi la prossima gara che vedrà impegnata la Cavese sarà al Simone Talamberti il prossimo 27 di ottobre con il Trapani che al momento è primo in classifica in attesa che altre squadre recuperino le partite. Intanto nel primo posticipo del girone C ieri sera il Potenza ha pareggiato 1-1 allo stadio Viviani con la Regina. Al gol del vantaggio potentino segnato nel primo tempo da Franza su calcio di rigore ha risposto a 10 minuti dalla fine San Domenico per i Calabresi che si trovavano in 10 contro 11 per l'espulsione di Navas. Tutte e due le squadre avanzano a centro classifica. Questa sera un altro posticipo è quello del Siracusa che affronterà il Rende. Allora Allora